Non è da per primettino, a tanno calcio dritto e torno di motore. Dic, non puoi da qualcosa. A presto, a presto, a presto, a presto, a presto. Ehi, a presto, a presto. Ma che c'è l'equipia? Che c'è l'equipia? Che c'è l'equipia? Che c'è l'equipia? Perché c'è la pressione? Perché c'è la pressione? Ma c'è la pressione? ... ... ... Grazie, bravo! Mi sono inizio di risposta, non so non so. Perché ho problematiche le risposta e li risposta. Questa cosa mi ha fatto? Cosa è fatto? Mi ha fatto? Non so. Non so, non so. Ma cosa è vero? Mi ha fatto una cosa. Non so. Ma non so come la cosa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.